buongiorno ragazze e benvenute in questo nuovo video della morning routine che inizia sempre con un bacio del mio amore che bacia un po tutti il bimbo in arrivo e pupi e noi continuiamo a dormire un altro pochino e ci svegliamo più con calma mi raccomando se vi piacciono questi video morning routine lasciate tanti like al video e tanti bei commentini la mia giornata inizia con tante coccole a pupi e poi apro subito il mio profilo instagram dove rispondo a tutti i vostri commenti e controllo sia il mio primo profilo instagram carità dolce che secondo carità shop quindi seguitemi su entrambi i due profili poi inizio a prendere la mia integrazione e prendo queste capsule anticellulite fitocelle che sono ottime completamente naturali si possono prendere anche in gravidanza e aiutano tantissimo ad eliminare la cellulite a drenare quindi la pelle buccia d'arancia la ritenzione sulle gambe poi prendo il magnesio che mi è stato consigliato anche dal mio ginecologo per contrastare le contrazioni in generale fa bene anche contro la stanchezza quindi ve li consiglio tutti questi prodotti ritrovati ovviamente su carità shop punto com e potete consultare il box informazione sotto dove vi metto il link di tutti i prodotti così subito li trovate la prima cosa che faccio è un massaggio contro le smagliature con queste creme che amo tantissimo queste due creme sono veramente favolose ragazze vi metto il link le box informazione sotto contrastano le smagliature e rassodano la pelle io le metto sulla pancia sul punto vita sulla schiena sul seno sulle gambe e sulle gambe un po dappertutto quindi ve le consiglio sia se siete incinte se non veramente aiutano tantissimo contro le smagliature e poi uso questo cryo gel che è un prodotto nuovo che ho da poco inserito su caritashop.com mi sta piacendo un sacco perché è molto molto tonificante e quindi mi aiuta tantissimo ad attivare la circolazione e contrastare il gonfiore sulle gambe e la ritenzione passiamo subito quindi al momento più bello della mattinata ovvero la colazione che cerco di fare sempre in modo sano da poco ho comprato questi cornetti integrali al supermercato sono biologici e sono molto molto sani ci metto dentro un po di yogurt e un po di marmellata senza zuccheri e un po di granella di nocciole inizio subito quindi con la mia morning routine vera e propria e vi mostro tutti i prodotti che sto utilizzando in questo periodo che sono davvero ottimi come al solito li trovate sul mio shop online sono ottimi contro le imperfezioni contro le macchie della pelle servono tantissimo per illuminare il viso ho utilizzato questo detergente nuovo di eterea che è buonissimo e poi procedo con uno scrub viso che non faccio tutte le mattine ma faccio due o tre volte a settimana questo è ottimo uno scrub tonificante e purificante al caffè e la menta quindi elimina tutte le imperfezioni i brufoletti punti neri dal viso veramente mi piace tantissimo c'è anche la maschera abbinata purificante c'è tutta la linea questa qua menta e caffè che vi straconsiglio procedo con la maschera viso anche questa qua non la faccio tutti i giorni ma due o tre volte a settimana questa è una delle mie maschere preferite del momento in assoluto la maschera oro 24 carati di eterea è veramente una bomba e la maschera dorata che fanno nei migliori saloni di bellezza contiene vere particelle di oro in più acido ialuronico collagene vitamine è veramente ottima per la pelle lascia la pelle morbidissima perfezionata luminosa rimpolpata e quindi zigome belle rimpolpati la pelle levigata elimina tutte le imperfezioni è veramente un colorito sano e una luminosità sulla pelle veramente incredibile dopo la maschera vedete la pelle veramente veramente stupenda a questo punto procedo con l'idratazione innanzitutto il tonico questo è il tonico viso sempre di eterea che è veramente ottimo e profuma di rosa lo spruzzo prima un po con lo spruzzino poi vado a tamponare anche con un altro po di prodotto applicato con un dischetto e questo serve tantissimo per chiudere i pori dilatati e continuare appunto l'idratazione della pelle quindi procedo con i sieri adesso sto applicando un siero alla bava di lumaca vedete questo è spray perché pura bava di lumaca 100% naturale e biologica sempre di eterea vi metto sempre il link sotto nel box informazione è un prodotto che straconsiglio a tutti sia che ha problemi di imperfezioni segni post brufoli macchie acne rughe mancanza di luminosità sul viso è veramente miracolosa e poi è molto molto fresca appunto perché spray quindi picchietto un po con le mani e poi applico il siero specifico per contorno occhi e contorno labbra alla bava di lumaca sempre di eterea che sto amando alla follia è veramente veramente qualcosa di superiore contiene bava di lumaca acido ialuronico collagene veramente a di tutto e serve tantissimo per eliminare appunto gli occhiai le borse e su contorno labbra da anche un effetto volume volumizzante alle labbra levigante rimpolpante quindi adoro poi applico il siero anche questi prodotti trend alert di alchemy sono favolosi e li trovate sempre tra le novità su caritashop.com questo vedete proprio un siero che sembra tipo una siringa con una pompetta è carinissimo ed è un siero appunto che elimina le imperfezioni dal viso un effetto proprio fresco la cosa bella che subito si asciuga un siero base trucco insomma che elimina le imperfezioni illumina il viso e poi applico la crema che questa crema sempre di alchemy è veramente veramente ottima e ve la consiglio come base trucco poi profuma di agrumi ed è buonissima sono tutti prodotti formulati apposta per la primavera è una skin care rivoluzionaria che va a eliminare le imperfezioni e a purificare e tonificare il viso dopo di chi mi dedico al contorno occhio con questo siero che veramente miracoloso con la pallina quindi un effetto freddo che elimina immediatamente borse e occhiali eccoli tutti i prodotti ragazze vi metto tutti i link nei box informazioni sotto sono veramente favolosi lavo i denti col mio adorato dentifricio al titri australiano che sbianca i denti e lascia un profumo buonissimo che questo naturale e biologico e successivamente applico il balsamo labbra sempre di eteria che è buonissimo ragazzi questo è al miele è buono buono poi vi dura tantissimo è super cremoso finalmente ho trovato il balsamo labbra della mia vita la consistenza perfetta idrata tantissimo le labbra e le volumizza anche a questo punto ragazze mi dedico all'outfit metto tutti i vestiti sul letto perché come al solito non so cosa scegliere proprio adesso che sono incinta ho ancora maggiore difficoltà quindi veramente un casino ogni volta questi sono i prodotti invece che utilizzato per la cura dei capelli sto utilizzando tutta la linea eteria dove c'è lo shampoo il balsamo per capelli sfibrati loro per capelli con cui faccio un impacco sui capelli prima dello shampoo il siero spray bifasico ai sali marini che ottimo anche per illuminare di strecare i capelli veramente questi prodotti sono ottimi trovate oltre allo shampoo per capelli sfibrati e secchi anche quello per capelli grassi e quello antifurfora questi prodotti veramente mi fanno rinascere i capelli sul viso quindi procedo con la mia base trucco questa è la crema che vi volevo consigliare che ho di recente inserito sul mio shop online perché voi mi chiede sempre una crema protezione solare base trucco che subito si asciuga che ha una protezione alta eccola qua per voi la nuova crema base trucco solare della saponaria appunto questi nuovi solari della saponaria sono ottimi infatti stanno spopolando e veramente sono naturali bio quindi quella crema prima di truccarvi la potete usare per tutta l'estate perché è veramente ottima subito si asciuga vi protegge appunto dal sole poi procedo a truccarmi sto utilizzando sto facendo una base molto leggera però illuminante e metto una tinta labbra un po' più diciamo bella più che più spicca mi dà più colore e quindi sul resto del viso mi mantengo abbastanza naturale tutti i prodotti ve li lascio nel box informazione sotto utilizzato nuova maschera di nabla ho utilizzato la tinta grande amore comunque metto tutti i link sotto e poi un altro piccolo trucchetto con la crema viso della saponaria alla rosa che adoro c'è anche mente al limone comunque queste creme costano pochissime sono ottime io la uso sia sulle mani sia sui capelli piccolo trucchetto per definire i capelli eliminare le doppie punte le punte sfibrate utilizzo questa crema associata a qualche colpo di spray dello spray anticrespo al chemilla della linea che era al cocco che amo tantissimo e così sono a posto curato sia il mio viso e i miei capelli e non sapete quanto mi sento bene e quanto mi è migliorata la pelle e i capelli con questi prodotti che veramente vi consiglio con tutto il cuore è arrivato il momento di indossare i miei meravigliosi gioielli che abbiamo rifornito per voi in particolare la collana summer vibes che va sempre a ruba l'abbiamo rifornita assieme agli orecchini cerchi gli anelli in oro la collezione mamma bimba li trovate tutti quindi adesso poi che c'è la promozione mi conviene prenderli in fretta perché vanno subito sold out a me piace tantissimo questo look a voi piace fatemi sapere con tanti like se vi è piaciuto questo video questo è il mio pancione alla diciannovesima settimana aspetto i vostri commenti nel box informazione vi auguro buona festa della mamma vi auguro buona giornata e grazie per aver visto questo video ragazze vi aspetto su carlitashop.com con i vostri acquisti preparerò i vostri pacchetti con tanto amore ciao ciao dalla vostra carlita e da baby nella pancia ciao barbara ciao 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 bufa la cosa buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata L'adoro Ti giuro è troppo bello Questa è pava di capura Che staglia agli aglumi al limone Dolce amaro E a me sono dolce Carlita è dolce E a me sono 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 dolce